Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo la previsione di Vittorio Sgarbi a carta bianca dalla Berlinguer su Rai 3. Sul quanto ci teniamo Draghi al governo? È un programma di approfondimento sull'attualità di Rai 3. Martedì 18 maggio si parla del quadro politico italiano e Sgarbi fa un pronostico, Draghi al Quirinale nel 2023, anche se oggi Mattarella in una delle sue uscite pubbliche ha detto che è anziano e non vuole, fra otto mesi si riposerà, fa capire che non vuole assolutamente proseguire, anche se molti ipotizzano probabilmente come Sgarbi che lui si faccia rieleggere e dopo un anno dia le dimissioni per far finire il governo a Draghi e poi prendere il suo posto. Dopo il recovery fund e la campagna vaccinale, quale sarà il futuro politico dell'Italia? Mario Draghi resterà presidente del Consiglio fino al 2023 o salirà al Quirinale nel 2022 con la fine del mandato di Sergio Mattarella e con conseguente poi elezioni anticipate. In realtà non ha propriamente finito tutto quello che doveva fare. Doveva fare le vaccinazioni, fatto. Doveva fare il recovery fund, fatto. Però c'è un però. Il recovery fund inviato non vuol dire che sia tutto a posto perché devono arrivare i soldi, devono essere spesi e vanno fatte le riforme che sono nel piano. Le riforme non sono una cosa così, bisogna fare delle riforme che tutti dicono, ogni governo. No, questa volta le riforme sono all'interno del piano, vanno fatte, se no i soldi non arrivano più o addirittura ci chiedono indietro quelli che hanno già mandato. Il centrodestra sarà guidato da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini. Bianca Berlinguer, conduttrice di Carta Bianca, interroga così i suoi ospiti. C'è il giornalista Luca Telese e dice la Meloni e Salvini sono nemici, in privato si odiano, parlano per Whatsapp, la leader dei Fratelli d'Italia sta diventando lo spettro del segretario della Lega. Che si odiano non credo, non credo. Giorgia Meloni ha sempre detto noi non siamo amici, noi non siamo mai andati oltre la politica. Vuol dire che con Salvini hanno solo e sempre parlato di politica ma non hanno mai... che cosa fai questo è stato in vacanza? Probabilmente dalla politica non sono mai diventati amici. Adesso io poi non ho neanche idea realmente se nel mondo della politica tu puoi avere degli amici o sono tutti dei conoscenti potenziali avversari. Può essere che nella politica i tuoi fedelissimi si possano considerare degli amici. Forse, non lo so. Bisognerebbe essere nei palazzi, vivere lì, le legislature e allora si potrebbe capire se veramente ci sono degli amici o solo dei conoscenti o solo tutti avversari. Non credo che Matteo Salvini odi Giorgia Meloni, però sta provando fastidio per il partito di Giorgia Meloni che avanza e questo è normale. È una competizione per la leadership non solo del centrodestra ma anche dell'Italia. Quello che sarà il primo partito sarà poi il Premier e naturalmente il Premier lo vuole fare sia Salvini che Giorgia Meloni. Mentre per il critico d'arte, sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, le cose non stanno poi tanto diversamente da quelle raccontate da Luca Telese. Dice io grande stima Indraghi. I nostri rapporti sono sempre stati cordiali e ho molta aspettativa di buoni risultati. Ma forse non avevo capito che nella sua visione di futuro, in cui tutti i partiti convergeranno sul suo nome come Presidente della Repubblica, cosa che mi pare inevitabile, ha dovuto mettere di maio il Ministro degli Esteri, che mi sembra una cosa... Eh... Draghi ha capito immediatamente, con il suo arrivo in politica, che in politica bisogna scendere a compromessi. Vuoi fare il Premier? Devi mettere il gigino. al Ministero degli Esteri. Che c'entra di maio col Ministero degli Esteri? Nulla. Di maio col Ministero degli Esteri non ha nulla a che vedere. Probabilmente geograficamente non sa neanche esattamente dove sono gli stati. L'inglese non lo sa, l'italiano più o meno, economia non sa nulla, geopolitica non sa niente. Insomma, mettere di maio al Ministero degli Esteri significa... è come aver messo un qualunque italiano a fare il Ministro degli Esteri. Competenze, curriculum, esperienze, eccetera, eccetera, nulla. E poi dice Sgarbi non solo di maio come Ministro degli Esteri, Speranza come Ministro della Salute. Speranza che manco infermiere è. Non è né medico né infermiere. Nulla. Questo di sanità non sa niente. È uguale a Di maio. Forse magari Speranza riesce a costruire qualche frase in più. Dice Speranza quando ha un partito diviso in due. Non ha fatto niente rispetto a quello che mi aspettavo. In altri Ministeri ha messo uomini di fiducia, ma la condotta generale è di grande equilibrio e misura e capacità di mitigare le pretese di Salvini che dialoga con lui. Lo stima e lo voterà per il Quirinale. E di mitigare le richieste di una sinistra che continua pretestuosamente a non considerare parte di un governo di unità nazionale dove eletta ogni giorno se la prende con Salvini. La Berlinguer fa notare che se Draghi diventa Presidente della Repubblica cade l'esecutivo e si va a votare prima del 2023. Ma Sgarbi dice non si può votare prima perché il Presidente eletto da mille deputati non può mandarli a casa. Nominerà un successore che probabilmente sarà un tecnico per otto mesi perché poi c'è la campagna elettorale. La soluzione potrebbe essere un Mattarella bis? Sì. Consentirebbe a Draghi di fare due parti in commedia. Il Presidente del Consiglio, fin tanto che serve, è poi quello della Repubblica. Mi sembra che queste siano le prove per diventare Presidente, come fece Ciampi, che poi avvenga subito dopo un interregno di Mattarella, non lo so, ma credo che si andrà a votare nel 2023. Interessante quello che dice cosa credete che mille deputati che lo votano poi questo li manda a casa facendo elezioni anticipate. Sgarbi è severo anche sulle alleanze in vista delle amministrative. Lega che sta al governo e Fratelli d'Italia che sta all'opposizione hanno maggior capacità di stare insieme di PD e 5 Stelle che sono entrambi in maggioranza ed hanno un sintomo molto grave fallimentare del loro futuro, non trovando l'alleanza per le elezioni comunali. Dice a sinistra c'è un vero e proprio malessere, avranno più candidati nelle varie città. La destra riuscirà invece a proporne uno solo. Sono più coesi Fratelli d'Italia e Lega. Questo è un paradosso. E il giornalista telese dice il centrodestra marcia diviso ma colpisce unito. Hanno la loro codice semplice. Chi arriva prima comanda. Poi ci possiamo menà, dice in maniera scherzosa, mentre il centrosinistra è un vorrei ma non posso. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.